Ciao a tutti e oggi voglio parlarvi di The Witcher, la saga di libri. Saga molto molto famosa perché poi comunque ha avuto varie iterazioni in diversi media e ora ne parliamo, però comunque mi sono letto tutti i libri e devo dire li ho trovati veramente veramente molto molto belli e quindi volevo un po' presentarveli. Prima di iniziare vi ricordo di mettere mi piace, commentare, condividere, iscrivervi tutte cose che possono aiutarmi a crescere e inoltre vi ricordo del mio negozio online ovvero www.binare.it, link sotto in descrizione se vi interessa, date un'occhiata. Detto questo appunto io direi che si può iniziare a parlare appunto di questa saga di libri molto famosa. Molto famosa però ora perché in realtà per un bel po' di anni all'inizio diciamo della creazione di questa saga che comunque è una storia parecchio vecchia perché se non sbaglio la maggior parte dei libri sono usciti a cavallo degli anni 90 e mi sembra che l'ultimo libro della storia principale sia uscito nel 99 forse o comunque giù di lì. Quindi una saga che inizialmente non aveva riscosso molto successo. Poi negli anni sono arrivati i giochi della sede di Project Red e ultimamente in questi ultimi anni sono uscite anche le serie tv ispirate a questa saga che poi hanno portato diciamo molte persone a accorgersi appunto di questa storia qui. E devo dire che io stesso sono uno di questi perché nel senso io mi sono visto alla prima stagione di The Witch, sono rimasto innamorato, mi sono comprato tutti i giochi, ho visto tutte le altre serie e ora mi sono letto tutti i libri. Quindi insomma, una cosa che ha aiutato molto la saga a spargersi questa serie tv. Detto questo però naturalmente parliamo effettivamente dei libri e di alcune cose legate ad esse. Attualmente la saga è composta da otto libri. Otto libri che sono in realtà divisi in due libri che cronologicamente si posizionano prima della saga principale, che sono una serie di raccolte di storie ambientate appunto all'interno di questo mondo qui. E storie che naturalmente seguono generalmente il Witcher Geralt. Tra le altre cose, appunto anche nella serie tv sono state presentate alcune delle cose viste all'interno di queste raccolte ma non sono state traslate proprio in maniera uno a uno oppure anche in maniera proprio cronologica. Perché per esempio uno degli episodi della seconda stagione, anzi il primo episodio, praticamente è una delle storie che viene presentata in una di queste raccolte ma le raccolte si svolgono cronologicamente prima della serie principale mentre all'interno della serie tv sono state portate più avanti, insomma quindi hanno fatto un po' un rimescolamento. Dopo questi due libri iniziali ci sono cinque libri che compongono la saga principale della storia di The Witcher appunto dove incontriamo Ciri e dove incontriamo vari altri personaggi che appunto poi abbiamo visto anche nella serie tv quindi quei cinque libri sono la parte principale di tutto. Alla fine di questi libri, nel 2017 o 2014, insomma non troppo tempo fa, è stato rilasciato un sesto libro che in realtà è un prequel della saga e che comunque segue il Witcher ma non, diciamo, porta importanti informazioni per quanto riguarda la saga principale. Però in realtà alla fine del libro c'è una cosa molto interessante di cui parleremo dopo che potrebbe essere una specie di teaser a qualcosa. E questi, diciamo, sono i libri appunto che per ora sono usciti di questa saga e di questo mondo. Come sapete naturalmente, ora ve lo dico giusto veloce, ma non sto qui a parlarvi di tutta la storia ma in generale all'interno della storia noi seguiamo questo Witcher, Geralt, che praticamente è un cacciatore di mostri detta proprio schietta schietta. è un essere umano mutato tramite dei procedimenti poco sicuri per, appunto, combattere mostri e difendere l'umanità da questi vari esseri che si trovano all'interno del mondo da grifoni a arpie a vampiri a eccetera 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 perché comunque, appunto, l'autore è polacco. Tutte queste storie, naturalmente, appunto, seguono Geralt, ma nella saga principale noi vediamo come Geralt debba proteggere e prendersi cura di questa bambina chiamata Ciri che molto presto si inizia a scoprire essere una persona molto importante per tutto il mondo perché comunque è una principessa di una nazione molto importante geograficamente e quindi i re la vogliono per farla sposare magari a figlioli o altri parenti per prendersi il controllo di questa nazione altre persone la vogliono per motivi inizialmente parecchio nebulosi che non si riescono bene a capire poi naturalmente scopriremo come mai la vogliono quindi, insomma, succede un bel casino, la storia va avanti si incontrano vari personaggi più o meno importanti e poi alla fine dovete scoprirlo, naturalmente tra le altre cose devo dire che per quanto la serie tv abbia dei cambiamenti mi sembra che per ora dal punto di vista, diciamo, di quello che è fondamentale sta cercando di portare la stessa storia anche se, appunto, ci sono parecchi cambiamenti mentre invece, giusto per fare una parentesi la serie dei videogiochi è una storia completamente diversa cambiata apposta l'autore ha dato, appunto, il permesso a CD Projekt Red di fare questi cambiamenti non sono, diciamo, parti della storia vera e propria quella dei libri ma, appunto, sono una serie di cambiamenti che funzionano all'interno del gioco detto così detto questo passiamo a parlare di un altro paio di argomenti legati a questi libri e il primo di tutti è le traduzioni nel senso che, purtroppo, per noi, nel senso la maggior parte delle persone non potrà leggere questo libro in lingua originale perché naturalmente l'autore è polacco ha scritto nella sua lingua e tutto quello che ci arriva generalmente sono traduzioni io personalmente ho letto le traduzioni inglesi non perché penso siano migliori o peggiori di quelle italiane sinceramente non ne ho veramente idea ma perché pensavo fossero quelle più facili da recuperare online ed è quello che ho fatto se capite quello che intendo quindi ho scelto la traduzione inglese solo per quello non so, quindi, come sono le traduzioni in italiano penso che possano essere buone perché, comunque, le traduzioni italiane di vari libri che ho letto sono sempre state buone quindi immagino abbiano fatto un buon lavoro anche su queste ma potrebbe esserci che non tutti i libri ancora siano stati tradotti perché, appunto, mi sembra che dei libri inglesi alcuni siano stati tradotti da dei fan e messi online quindi ancora non sono disponibili pubblicamente però non sono sicuro quindi informatevi per questo e guardate un po', diciamo, nelle varie librerie perché non sono sicuro al 100% invece, per quanto riguarda proprio quello che hai scritto secondo me la storia ci viene presentata in una maniera veramente molto molto simpatica per quanto difficile, secondo me, da seguire per alcune persone quindi potrebbe essere che per alcune persone la saga di libri rimanga abbastanza noiosa e antipatica per il modo con cui vengono presentati i fatti invece, a me, per esempio, il modo in cui vengono presentati i fatti piace molto infatti, in tutta la saga sia nei libri, diciamo, prequel sia nelle raccolte di storie sia nella saga principale le storie ci vengono presentate con veramente tantissimi punti di vista diversi ovvero, alle volte, da capitolo in capitolo o alle volte anche nello stesso capitolo si salta da un punto di vista all'altro molto spesso utilizzando magari lettere scritte tra vari personaggi per presentarci i fatti oppure utilizzando magari estratti da libri immaginari che fanno parte appunto di questo mondo per presentarci i fatti oppure prima guardiamo il punto di vista di Geralt poi quello di Siri, poi quello di Yennefer poi quello di Ranuncolo in italiano insomma ci sono veramente tantissimi salti del punto di vista e so che a alcune persone questa cosa non piace a me è piaciuta perché secondo me l'autore ha fatto questo in maniera veramente molto intelligente si deve essere veramente impegnato perché con tutti questi vari punti di vista estratti di libri, citazioni eccetera 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 ci fa arrivare delle cose molto carine molto interessanti delle nozioni molto ganze e quindi te alle volte riesci a collegare i punti e sapere alcune cose prima che i personaggi stessi le sappiano e quindi riesci un po' a immaginarti quello che può succedere e poi magari c'è un cambiamento di rotta improvviso quindi secondo me è molto carino il modo con cui è stato scritto tutta la serie però sono conscio che per alcune persone posso essere antipatico quindi ve lo dico sinceramente a me è piaciuto alcuni di voi potrebbe non piacere oltre a questo quale altre cose naturalmente c'è da dire mi è piaciuta la serie mi è piaciuta moltissimo anche l'ambientazione che comunque è questo mondo medievale con alcuni sprizzi in realtà di tecnologia molto più avanzata rispetto a quello che sembrerebbe l'ambientazione i personaggi sono molto belli come poi si vede anche in realtà in parte nella serie tv insomma Geralt è un witcher per esempio e però molte volte si trova a difendere mostri da altre persone perché comunque pensa che siano più nel giusto loro Siri è una ragazzina comunque molto giovane quando iniziano gli eventi che si trovano all'interno della storia e comunque si trova appunto in questa situazione molto particolare molto difficile e la vediamo appunto crescere e alle volte anche sbandare all'interno di questa sua situazione quindi insomma secondo me è veramente veramente molto bella sia l'ambientazione che la storia che anche in realtà le storie precedenti alla saga principale sono secondo me molto interessanti e ti aiutano molto in realtà a capire com'è il mondo com'è l'ambientazione in maniera molto più diciamo veloce rispetto a che se ti metti a leggere soltanto la saga principale per esempio vedi come gli elfi sono quasi sul loro dell'estinzione come si trovano si trovino diciamo scaraventati via dalle loro case per via delle attività umane però allo stesso tempo come loro non si vogliono neanche diciamo non vogliono scendere a patti con la civiltà umana non vogliono omologarsi ad alcune delle idee appunto che la civiltà umana porta avanti e quindi rimangono al di fuori di questa società si vede il razzismo che c'è potentissimo da parte degli umani con tutti i non umani perché all'interno di questo mondo gli umani sono arrivati molto tardi le altre società, le altre civiltà avevano sviluppato tecnologie molto più avanzate però gli umani erano molti si riproducono molto velocemente e quindi sono riusciti a ritagliarsi una parte gigantesca del continente ma nonostante questo c'è sempre molta discriminazione nei confronti degli non umani c'è veramente tantissime cose all'interno di questa storia e secondo me vengono tutte poste in maniera molto intelligente detto questo io mi avvierei verso la fine dicendo la saga potrebbe non essere finita perché dico questo? perché l'ultimo libro rilasciato appunto dall'autore quello che è in realtà un prequel della saga principale porta un'informazione molto interessante ovvero nell'ultimo capitolo tra rinfite e raffete Geralt fa o Geralt o qualcuno dice una frase interessante la storia non finisce mai riferite naturalmente alla storia che viene raccontata all'interno dei libri questo non so in realtà se è un teaser fatto dall'autore stesso per indicarci che in realtà stia lavorando a un seguito della saga principale oppure ad altri libri da aggiungere a questa cosmogonia quindi non sono sicuro sinceramente non so se effettivamente questo è quello che voleva portarci l'autore oppure era semplicemente una frase che ci sta bene all'interno del contesto però potrebbe essere che in realtà avremo un seguito o perlomeno qualche altro libro all'interno di questa saga cosa che sinceramente secondo me viene anche confermata in parte dal successo che sta avendo la saga tramite appunto la serie tv quindi dal punto di vista poco semplicemente economico avrebbe senso dopo tutto il successo che ha avuto la serie tv scrivere un libro che potrebbe essere l'inizio della seconda parte della storia o qualcosa del genere perché comunque appunto porteresti molti delle persone che si sono appassionate alla serie tv a comprare questo libro quindi secondo me potrebbe essere che avremo qualcosa del genere non è confermato fatemi sapere la vostra magari se avete letto l'ultimo libro se avete letto la traduzione italiana come viene fatta perché appunto io ho letto quella inglese potrebbe essere che la frase è diversa all'interno del libro italiano magari fatemi sapere però sì secondo me potrebbe essere che avremo qualcosa in più in futuro da aggiungere a quello che già abbiamo che comunque è tanto nel senso quindi secondo me ci sono molte cose da leggere e una storia molto bella da seguire detto questo io direi che ci si vede la prossima volta non so esattamente su cosa vedremo e niente fatemi sapere nella sezione dei commenti qui sotto appunto se vi è piaciuto la serie se vi è piaciuto i giochi se vi è piaciuto i libri della saga di The Witcher e niente buona giornata la saga di The Witcher